Andrea, 59 anni, non era mai stato in un pellegrinaggio mariano con l'Unitalsi. Andrà quindi dal 22 al 25 agosto. È in pensione da pochi mesi, dopo 38 anni di lavoro presso il comune di Verona. È affetto da una tetra paresispastica a causa di difficoltà durante il parto, che non hanno compromesso comunque le sue capacità intellettive. Ha deciso di accettare la proposta di un amico di partire per l'Oreto per diversi motivi. Ho scelto di andare all'Oreto per ampliare le mie conoscenze, anche per farmi dei miei amici nuovi e anche per una questione, anche da fede, e per avere l'opportunità di andare, di conoscere altre realtà oltre a quelle che conosco già. È la prima volta perché prima lavorava e c'era la mamma, per cui molto restia farlo partire indubbiamente con altre persone. Invece lui ha piacere di conoscere, al di là dell'aspetto della fede, che senz'altro ha la sua importanza, però è importante anche conoscere altre persone, confrontarsi con altre realtà e imparare cose nuove. Sono tante le persone che, come Andrea, avrebbero il desiderio e la necessità di vivere esperienze come i pellegrinaggi nei grandi santuari. E l'unità al Sidi Verona, assieme alle altre sezioni del Triveneto, ripartono proprio da l'Oreto, altra metà storica dopo l'Urd. Ripartiamo con l'Oreto, a livello sempre di sezione Triveneta, non come Verona. Saremo presenti anche noi di Verona, insieme ad altri. Al momento ci sono due pulma e le iscrizioni sono ancora aperte. Il pellegrinaggio sarà dal 22 al 25 di agosto. Speriamo che si riparta bene dopo questo lockdown, dopo tutta questa difficoltà nel ritrovarci, nello stare insieme, perché a noi manca tantissimo queste relazioni tra le persone, con le persone malate, gli anziani. Manca lo stare insieme, il rivederci, il ritrovarci insieme.